La giornata è molto importante, io sono stato fortunato ad arrivare io in questo giorno, diciamo, sfruttando il lavoro del mio predecessore e soprattutto devo riconoscere l'impegno e la caparvietà dell'amico Tonetti che ha voluto veramente perseguire in tutti i modi questo risultato. Sono contento perché i suoi sforzi sono stati una volta, una volta che abbiamo insieme. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta tutti insieme. La speranza è che adesso convoglie la nuova linea e venga utilizzata in maniera appropriata. Sì, è stata la prima battaglia del mio mandato, del mio primo mandato, quindi nel 2014 il primo passo è stato proprio quello di impegnarmi per la riattivazione della linea. Ci sono stati momenti in cui sembrava che questo non dovesse andare in porto, oggi finalmente la grande soddisfazione di aver potuto ricollegare la Lomellina con il Monferrato, Mortara con Casale e Caglia in mezzo come tradiglione. La soddisfazione è ovviamente enorme, grazie all'amico sindaco Pierosa che ha voluto accogliermi oggi più a Mortara. Grazie a tutti. Grazie a tutti.